3, 2, 1, let's go! Questo è un nuovo episodio di Dario & Denise! Il primo? Il primo? Eh sì, è il primo episodio di Dario & Denise e oggi ho deciso di coinvolgere la mia ragazza nel mio canale YouTube perché dicono che quando si fanno le cose di coppia è facile crescere sui social, l'ho letto prima in un video YouTube. Giusto. Quindi sono venuta da te in cucina. Coppie e culi e? E tette. E sono venuta da te in cucina e ti ho detto, facciamo un video assieme! Di cosa parliamo in questo video? Allora, questo è un video importante perché è un video terapeutico. Io sono convinto che fare questi video ci faccia bene, no? Terapia di coppia? Sì. Tra noi due. Sì, esatto. Ok, ok. Quindi ci serve un topic da cui partire e ho pensato di fare una domanda su Instagram e chiedere alle persone che domanda farci. E ti hanno risposto? No, perché non ho fatto nessuna domanda, le storie. Non ho fatto in tempo, ho detto partiamo, dai, facciamo le domande. Ok, ma lo sai di cosa parlare? Sì, sì, partiamo da un argomento semplice. Beh, sarà solo un argomento del video, no? Allora, stamattina si siamo svegliati e io e te abbiamo fatto yoga. Giusto. Eh, io sono stato molto bravo. Ma sì, dai. No, sì, sei stato bravo, potevi prenderla un po' più con filosofia, senza lamentarti che era un po' troppo difficile, che se si inizia con difficile poi uno mora. Ragazzi, ho iniziato questa sessione di yoga dicendo, mi raccomando, non livello 2, perché so già che livello 2 per me è too much. È vero, è vero. E dopo tipo dieci minuti che lo stavamo facendo, Dani ha detto, ah, tra l'altro è livello 2. È livello 2, Ashtanga è una lezione, dai, una pratica intensa, però sei bravo tu, dai. Eh, esatto. Abbiamo fatto questa pratica insieme perché abbiamo una nuova casa con un nuovo sarotto e finalmente in questo sarotto ci stiamo entrambi. E questo è l'argomento? No, l'argomento era un altro. L'argomento è come si vive a Barcellona e... Però attenzione, perché qua quando parli di Barcellona si scatenano gli haters. Si scatenano gli haters perché quando noi facciamo vedere la nostra vita a Barcellona la gente si dice... Di un gruppo di Barcellona, no? Sì, vabbè, l'altra volta era successo il panico, tipo hanno condiviso il mio video sul gruppo italiani a Barcellona e si era scatenato tipo... L'inferno? L'inferno, sì, sì, sì. Tutti gli haters in una volta. Assurdo, assurdo, tipo centinaia di commenti, eccolo qui il tipico italiano che pensa di venire a Barcellona a non far niente, a rubarci il lavoro, ma in realtà noi non lavoriamo a Barcellona. Infatti questo è un punto di vista un po' particolare sulla questione perché noi non viviamo a Barcellona, ci stiamo una decina di giorni al mese, però viviamo effettivamente da due anni a Barcellona. È la nostra base. È la nostra base, la nostra base. Non lavoriamo a Barcellona, quindi non vi possiamo parlare molto bene del mercato del lavoro, o almeno ve ne posso parlare per sentito dire, però in realtà tu hai insegnato anche yoga, quindi hai anche lavorato volendo. Diciamo che lo spagnolo è una parte molto richiesta se uno vuole lavorare a Barcellona e all'inizio io non parlavo spagnolo, quindi quando andavo nei centri... Adesso invece parliamo benissimo allo spagnolo. Adesso, beh, meglio di te. Ah, quindi senza dubbio. Comunque, ero un po' tagliata fuori e non sono riuscita a trovare lavoro nei centri di yoga perché io non parlavo lo spagnolo, quindi ho insegnato... No, è che hai un caratteraccio secondo me. E quindi comunque, sì, è stata la mia unica esperienza che comunque, dai, è andata bene. Comunque io e Dani siamo la dimostrazione che è possibile vivere a Barcellona senza saperlo spagnolo. Perché... No, io lo sto imparando e mi sto impegnando di più. Tu proprio non ti impegni neanche a dire... Dani è hola, cioè devi dire hai. No, io dico hola, hola, sì sì, hola come sta, sono tutto bien gratis. No, a parte gli scherzi, c'è da dire che... Te le fai a te le ridi. Io e Dani non avendo mai lavorato qua a Barcellona, cioè un conto uno viene qua, trova il lavoro, sta a contatto con la gente... Prima cosa. Infatti perché poi Dani sa meglio lo spagnolo di me? Perché lei è stata a contatto con la gente, cioè lavorando un po'... Tu sei un orso. Ho capito, io lavoro in casa, sto sempre al computer, quando esco vedo persone che parlano inglese o italiano... Diciamo che ci siamo poco, quando ci siamo stiamo spesso a casa perché è una settimana o massimo dieci giorni al mese, quindi siamo in casa, lavoriamo in casa eccetera, non abbiamo occasioni di socializzare. Comunque questo è un disclaimer, la gente qua non interessa perché loro lo spagnolo lo impareranno più velocemente che noi. Cioè come si vive a Barcellona? A livello di stile di vita, perché poi a livello di prezzi, di costi eccetera, secondo me si vive parecchio bene. Cioè la mia idea è che non esista un'altra città, questo lo dico sempre, quando devo parlare bene di Barcellona dico non esiste nessuna città in Europa così smart city, smart city fatemela passare, cioè comunque è una città in cui si sente il peso della tecnologia, dell'innovazione, delle cose che funzionano, dell'opportunità, delle esperienze. E però davanti c'è il mare e non è un mare qualunque, è un mare bello, ok? Anche nel sud Italia abbiamo, eh? Senza le onde, chiusa parentesi. Perché Danny è appassionato di surf. Al sud Italia è vero che ci sono delle città con un mare bellissimo, probabilmente, esatto, anche più bella di Barcellona, però non c'è la città che c'è a Barcellona, no? E comunque è interculturale, è cosmopolitana, tra virgolette, di sicuro più di Palermo, non è che ci siano tutte queste persone, tutti questi... Anche più di Roma, mi sa, perché anche Roma ha il mare, non proprio vicino come Barcellona. Il mare? Sì. A parte che sarà a 40 chilometri e poi non è mare quello. Eh, questo invece con gli assorbenti preservativi e le siringhe. Ok, le siringhe, dopo le tempeste. No, solamente dopo le tempeste ed estate, però vabbè. Però l'acqua è trasparente, fa il bagno volentieri, è bellissimo. Sì, sì, c'è aria di mare, non solo il mare, si respira aria di mare, anche uscire di casa, c'è l'aria pulita, c'è sempre bel tempo, quindi sembra quasi di essere un po' in vacanza, no? Quando sei a Barcellona. Sì, è fantastico. Respiri questa... un po' stile Miami, un po' stile California. Ecco, sì. Infatti mi ricordava la California. Sì, diciamo sempre... Non tanto le persone, ma più l'aria che si respira. È tipo l'E.L.A. dell'Europa, secondo me. È vero, è vero. Potrebbe essere anche Palermo, però mancano ancora. C'è lei giù con Palermo? No, è molto bella. Diciamo che fai la vita da mare, cioè, o puoi farla, quindi, ad esempio io sono appassionato di barca vele, è pieno di barca vele, Danny è appassionato di sap, quindi può fare paddleboarding, ogni tanto quelle 3-4 volte l'anno può fare surf, se capita. Poi comunque si vive lo sport a 360 gradi qui, fa tutti i sport. È la seconda città più sportiva al mondo, ha vinto il premio dopo San Diego, non so in che anno, probabilmente magari l'anno scorso o l'anno prima, comunque questa cosa dovrebbe far riflettere. E non a caso ci vivo io. Vabbè. Io sono, ecco, un altro beneficio che possiamo dire... Sei stato stimolato. Esatto, che Barcellona mi ha reso molto più sportivo di quanto non fossi. Infatti ti conosco da prima di Barcellona ed è l'unica città in cui esci a correre, perché comunque il clima... Eh, esatto, qua ti viene voglia. Sì, le giornate sono più lunghe, c'è il parco, c'è il lungomare, incontri comunque sempre a tutte le ore del giorno e della notte gente che corre, che fa sport, in spiaggia, crossfit, allenamento funzionale. Sono tutti presi benissimo con lo sport e quindi ovviamente ti viene voglia anche a te quando vedi la gente che lo fa, ti viene voglia anche a te di farlo. Senza dubbio. Io ad esempio quando sono venuto a Barcellona mi sono comprato lo skateboard, anzi ne avevo già uno ma non lo usavo quasi mai, quando ci siamo trasferiti a Barcellona me ne sono comprato di tipo sei e da lì ho iniziato ad andare in skateboard e andando in skateboard più dopo mi è venuta la passione anche di nuovo per lo snowboard e oltre a questo ho iniziato a far surf. Cioè secondo me è una città che ti contamina con delle good vibes. Good vibes secondo me è anche un po' la parola d'ordine di Barcellona perché secondo me quello che diceva Danny l'altra sera è caspita quando torniamo qua sento proprio che è una città che è luccica, che brilla, che è solare, che ha un'energia vibrante. Mentre ci sono tante città d'Europa o anche italiane dove sì c'è l'opportunità ci sono tante altre cose però sono un po' grigie ma non solo grigie dal punto di vista del tempo ma anche delle persone ma anche del lifestyle, dello stile di vita. Cioè non è che siamo tutti meteoropatici però una città così soleggiata secondo me influenza l'umore delle persone, tendenzialmente gli spagnoli, non i catalani, non vuole essere razzista, tendenzialmente gli spagnoli sono sorridenti, ecco le mie amiche catalane sono sorridenti, sono presi bene dalla vita, insomma se si godono anche la vita sono presi bene. Poi altri lati positivi, poi passiamo a quelli negativi, secondo me altri lati positivi sono il cibo, caspita qua si mangia veramente bene e non lo sto dicendo in virtù del cibo spagnolo anzi perché il cibo spagnolo è molto ripetitivo e ti stanchi però è pieno di ristoranti buoni internazionali. Sì per quelli che hanno problemi come me, a te ti piace mangiare però per quelli che hanno problemi come me e il glutine, la carne no e questo no e quello sì sicuramente hai tantissime possibilità e soprattutto è buono quindi rispetto al Trentino e me che è casa mia dove spesso mi capita di non riuscire a mangiare perché ovviamente ho un po' di limiti invece qua ho tantissime possibilità di mangiare bene, 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 sano e quello che posso, quello che voglio eccetera quindi abbiamo tantissima scelta. E boh sono carini, si mangia bene, i ristoranti sono belli, tra l'altro è possibile mettersi a dieta facilmente tipo io in questo momento sto cercando di restringere la mia dieta a cose sane mentre tipo in montagna perché noi spesso siamo in Trentino o comunque in altri posti italiani anche in Ferrara o anche Roma è molto difficile dire mangiare cose sane non è così facile cioè non è pieno di tutti questi healthy restaurant mentre qua è pieno di healthy restaurant che ti fanno le pokeball, i verdure di ogni tipo, cose particolari, vegan, vegetarian, gluten free e tutte queste cose abbastanza interessanti. E poi c'è la mia cucina che c'è sempre. Eh sì, quando vuoi stare a dieta vai a mangiare da Danny e mangi sempre dieta. Poi altre cose positive, altre cose positive ti viene in mente qualcos'altro? Beh abbiamo già detto tanto perché comunque è il meteo, è lo sport, comunque le vibes positive, il mare... Non so se la vivi come la vivi ti può anche solamente andare nei co-work, l'esempio della Soho House che noi non ci iscriviamo ai co-work perché ci siamo così poco, però puoi incontrare gente da tutto il mondo, ogni tipo di persona è molto internazionale come città. Sì, la Soho House tra l'altro è interessante, c'è anche in altre realtà, altre città, se qualcuno non la conosce c'è anche a Rundra. Worldwide. È una sorta, è in realtà un hotel, ok, che c'è in giro per il mondo. Non dappertutto un hotel, in certi posti è solo una casa. Ok, ok, e praticamente hanno trasformato le aree comuni in club esclusivo, quindi tu paghi una membra, anzitutto devi essere selezionato, quindi fai l'application o qualcuno ti deve presentare e comunque fai l'application e devi essere approvato, paghi e non paghi neanche poco mi sa, però è molto interessante perché puoi avere un ritorno sull'investimento. Che cosa significa? Che tu iscrivendoti a questa Soho House comunque hai delle opportunità di networking dove conosci gente che viaggia, gente che viene da New York, da altri posti del mondo, creativi pubblicitari. Anche perché loro scelgono solo tendenzialmente questo tipo di persone. Ok, scelgono praticamente solo creativi pubblicitari, produttori, cose di questo tipo, no? Poco tecnici. Esatto. Se siete ingegneri, ciao. O banchieri. O banchieri, ciao. Sì, avvocati. È figo, è figo, è figo. Comunque in generale quello che dice Dani è ci sono tanti co-work o comunque in realtà dove noi non partecipiamo perché non abbiamo il tempo e stiamo qua a poco, quindi quando ci stiamo stiamo per lo più a casa, poi noi facciamo casino, parliamo, chiamiamo, facciamo video, quindi conviene avere un ambiente nostro. Però ci sono tanti ambienti dove fare networking. Io per esempio che ho sempre viaggiato tanto, mi ha sempre stimolato a viaggiare tanto, ovviamente anche per quanto amo il mio paese predazzo, ho comunque vissuto a Roma, mai come Barcellona mi è capitato di conoscere quella dell'Australia, quella di qua, quella di là, l'americana e quindi mi piace avere amiche internazionali appunto, questa cosa mi piace molto. Un'altra cosa figa però di cui noi non abbiamo goduto così tanto è la nightlife, non ne parliamo molto perché non siamo persone da nightlife, però Barcellona penso che sia una delle poche capitali europee della nightlife, quindi da... Ah sì? Beh, insomma, i ragazzini vengono qua a disfarsi e far serata ad ascoltare i DJ più importanti al mondo, quindi ogni settimana ci sono DJ famosi, artisti musicali, tanta gente che viene qua per far serata e alcuni club molto molto famosi. Quindi se potete andare sulla costa e trovate la sfilza di tutti quelli tipo l'Opium, il Carpe Diem... Quelli più commerciali... Più commerciali, però sono belli secondo me perché sono tutti sulla spiaggia, quindi dici vabbè vado lì e poi dopo se ho voglia di entrare entro in qualcosa... Se no dormo in spiaggia... Esatto, oppure in centro città ci sono altri eventi molto fighi con discoteca un po' più magari... meno club ma proprio discoteca discoteca e poi invece ci sono... Eventi... Tipo ci sono dei format di eventi tipo Raw dove non siamo mai andati ma ora c'è anche in Italia ed è un evento importantissimo, il branch elettronico invece ci siamo andati super figo. La pulperia elettronica? La pulperia elettronica è un altro evento super figo. Ci sono degli eventi veramente veramente spettacolari ma non tanto solo per la musica ma per il format tipo il branch elettronico è un evento che fanno di pomeriggio su Amonjuic in questo giardino dove si balla di pomeriggio con la musica techno bella pesante. Un po' stile cocella. Sì, un po' stile cocella, è vero, è vero, è vero, sì. Vabbè parliamo delle cose negative, parti te. Allora le cose negative che più spesso ho riscontrato e più io di te perché tu non è che vai al supermercato, in farmacia oppure non lo so l'altra volta ero in palestra in spogliatoio e quindi i catalani sono delle persone molto molto chiuse e io vengo da un paesino di montagna dove tutti potrebbero dire che siamo orsi ma in realtà non è così, i veri orsi sono i catalani. Le donne che non ti sorridono, che ti rispondono male, che ti trattano male, quindi questa cosa qui non mi fa mai sentire welcome, mai e dico, mi fa quasi sempre pensare oddio ma io non voglio stare qui se loro sono così. Poi non sono tutti così, però che diciamo che i local local, magari più anziani, tendenzialmente non sono quasi mai molto accoglienti. Ho avuto diverse esperienze poco piacevoli, tant'è che un giorno sono tornata a casa che quasi mi ne ha da piangere perché al fruttivendolo tutte le donne catalane mi superavano in fila come se fossi invisibile e mi passavano davanti. Però quello anche via Renova a Ferrara. Ok, vabbè, è vero, mi è successo anche lì o succede a te? Che le anziane ti superano, come dire, ma chi sei te? Ah, ok. Oppure il fruttivendolo che magari gli parlavo un po' inglese, un po' spagnolo, un po' italiano, mi rispondeva male, poi dopo sono andata dal... Vabbè, tutti accessori per la casa, adesso... Veramente. Bravo. Una donna, ti capisco al volo. Quello pure mi ha trattato male, poi dopo sono andata al supermercato, un problema con il resto, mi hanno trattato male, sono arrivata a casa e ho detto, madonna, ma che problemi hanno, cioè gentilezza proprio, però vabbè, era stata una giornata. Però mi è capitato più volte di non sentirmi molto welcome. Ci sono state spesso manifestazioni dei catalani per l'indipendenza, oppure messaggi ai turisti, turist go home, sono un po' guariti sti. No, no, turisti fate balconing. C'era il cartello con la foto di un turista che si buttava dal balcone e si suicidava praticamente. Quindi messaggi comunque anche forti. Sì, sono un po' heavy, un po' hardcore. Molto incazzati. Sì, e questa cosa non mi piace per niente. Prima l'ho confrontato alla California, ho detto è un po' una Venice, una LA europea, e magari invece in California è l'opposto, che tutti sono Hi, how are you doing? Hi, you're so beautiful! Tutti così. Forse non è neanche così vero, cioè sono un po' finti, un po' fake, però te la fanno prendere bene, invece gli spagnoli li saluti e si girano dall'altra. Capita, poi dipende dai casi perché hai tante amiche in catalana. Per generalizzare, però tendenzialmente è così. Quindi questa è la prima cosa negativa, che comunque tutte le persone straniere che vivono qui, ogni volta che ne ho parlato, trovano la stessa cosa. L'altra nota negativa, secondo me, oddio, non è che ce ne siano proprio tante tante, secondo me notte negative... Forse adesso è un po' sovraffollata, soprattutto l'estate. Sì, l'estate, sì, sovraffollata tantissimo. Prima che vivevamo lì, poi a Juan de Bourbeau, era una via sul mare che portava a Barceloneta e scendevi tipo il weekend oppure ad agosto... Stavi in coda, stavi in coda tutto il tempo, cioè scendevi con lo skate e alla fine non lo usavi neanche perché era impossibile girarci. Quindi sì, secondo me questa cosa fa riflettere. Un'altra cosa è che sicuramente non è una città che per tutte le mansioni rappresenta un'ottima combinazione di opportunità e prezzo, cioè nel senso è una città che secondo me riserva delle opportunità per chi lavora nel digital, perché con la Brexit e tante altre cose, tante persone, tante aziende si stanno spostando qua e quindi si stanno anche aprendo delle posizioni interessanti in ambito digitale. Ci sono dei giovani che conosco, che lavorano in aziende digitali, di retargeting e mille altre realtà, figo, guadagnano bene e fanno una bella vita. Però non è come Londra, secondo me che se vieni qua a cercarti il lavoretto da cameriere o queste cose qua, poi riesci a campare molto bene. Ci sono stipendi molto bassi. Secondo me ci sono stipendi molto bassi per questa tipologia di mansioni e Barceloneta è una città che negli anni è cresciuta tanto a livello di costi e di prezzi. È vero. Cioè è una città dove veramente il costo delle cose, non dico che sia ormai alla pari di Milano, però quasi, cioè nel senso... Non tutte però comunque... Non tutte ma... Io mi sono... io sono rimasta male perché a Roma, che non è neanche così cara, pagavo le lezioni di yoga se andavo a praticare o comunque venivo pagata io, non tanto, ma qui a Barcellona era proprio ridicolo. Io andavo a una lezione di yoga di 90 minuti e mi chiedevano 8 euro e io dicevo ma no, te ne do di più, cioè ti pare 8 euro. Quindi alcune cose costano poco, tipo le lezioni di yoga, altre cose invece che costano tanto, cioè comunque quando vai al ristorante, se vai in un ristorante buono, 30-40 euro a testa, ti partono. Se ti vai a mangiare una pizza, comunque la pizza qua costa più che in Italia, se vai a mangiare... Quindi ovvio, poi magari non vi importa, noi stiamo qua mica per una convenienza economica, stiamo qua perché ci piace la città, però immagino che dal punto di vista di un ragazzo giovane o qualcuno che viene qua alla ricerca della fortuna o di un lavoro qualunque sia un punto di vista estremamente importante. Da sapere. Altra cosa è il costo delle case, le case non costano poco a meno che non vai in dei quartieri dove non ti senti magari estremamente al sicuro, non sono pulitissimi, eccetera. Ad esempio il Raval e il Gotico, le case costano meno ma costano meno con un perché, spesso non hanno luce e il Raval è un quartiere dove la sera non è che sia proprio tranquillissimo, ci devi stare attento. Poi gli dicono che in realtà sia una delle città, una delle più sicure d'Europa. Questa cosa va presa con le pinze splittate in due casi, divise in due casi, cioè non è una città da omicidio o città dove veramente viene accoltellato, anche se è successo due o tre volte recentemente l'estate scorse, è successo in particolar modo una ragazza ed è successo in alcune bande rivali che probabilmente spacciavano ed era un regolamento di conti. Però solitamente, a parte il caso della ragazza, non ci sono stati così tanti casi di veri e propri pericoli, cioè non è una città dove la sera devi stare estremamente attento a camminare per strada da solo o da sola perché vieni, non lo so, stuprata. È una città però dove devi stare attenta perché invece molto spesso viene scippato e quello neanche te ne accorgi. Quindi non ti devi preoccupare di essere aggredito ma ti devi preoccupare di tornare a casa con tutto nelle tasche. Ora, io mi tocco, a noi ancora non è successo niente e siamo stati piuttosto fortunati, però abbiamo conosciuto diverse persone a cui è successo e abbiamo visto anche dal vivo dei casi di scippo abbastanza eclatanti. Ci stanno in giro questi ragazzi con la bicicletta, soprattutto la personita, vedi che sono in giro. Se la ragazza si siede sulla panchina col proprio ragazzo di fianco, appoggia la borsa e iniziano a baciarsi, passa al ladro in bici e corre. Sono lì pronti. Però quello che voglio dire è, nel senso, può capitarti anche in Italia, può capitarti anche a Roma o una cosa del genere. Cioè, la borsa devi stare attento sempre dove la appoggi. Sì, c'è spesso la polizia in giro, magari ci sono tanti barboni, però... Beh, ti senti sicuro in qualche modo, nel senso che, ripeto, ci sono tanti barboni ovunque, non sono pericolosi magari, però... E comunque, ripeto, io vado spesso a Milano per lavoro la sera, ho visto tanti barboni uguali a Milano, cioè non è una situazione così disastrosa. Poi altre note negative della città, poche, poche, poche. Ecco, diciamo delle altre note positive, blast, bonus, che ci siamo dimenticati, perché uno, secondo me, è una città dove è facile trovare case belle. Ossia, le case non costano... Sicuro? Sì, secondo me sì, le case non costano poco, però hanno tanto gusto loro, no? Estetico. Cioè, ho visto degli appartamenti, magari anche il gotico, che costavano poco, noi non li abbiamo presi e mai li prenderemo perché hanno poca luce, però erano proprio arredati bene. Invece, proprio nell'ultimo periodo, mi sono guardato un sacco di case a Lisbona e, caspita, a Lisbona non ne trovi manco una bella. E anche a Milano, che ho guardato con Luca qualche mese fa per trovare un posto per marketers, caspita, le case belle ti costano tanto e sono poche. Mentre qua, comunque, ci sono delle buone opportunità, anche casa di Luca Votto era molto bella quando stavano qua. Poi, un'altra cosa che mi era venuta in mente, sempre tra le note positive... Beh, l'aeroporto internazionale qua... Ah, ecco, l'aeroporto, caspita, l'aeroporto, ragazzi, è una nota... Vicino. Incredibile, perché da casa all'aeroporto ci vogliono 20 minuti al terminal 2 e 30... Se vai in taxi. 25 minuti al terminal 1, noi li abbiamo in taxi, in taxi costa tra i 24 e 30 euro. Quei mezzi? Quei mezzi non li ho mai presi per... no, una volta, sì. No, davvero? Ok, un'oretta quei mezzi. Un'oretta. Caspita, 20-30 minuti per arrivare in aeroporto per una spesa di 24-30 euro... Sì, 20 minuti con una spesa di 24-30 euro, beh, non sono tante le città in cui ti può capitare. A Milano, se parti dalla città e vuoi andare in aeroporto, uno ci metti tanto, due spendi 100-150 euro. Quindi, comunque, per noi che viaggiamo tanto è di una comodità incredibile. Anche solo quando arriviamo con il nostro trolley a Barcellona, diciamo, tra 20 minuti sono a casa, è magnifico. Quando invece arrivo a Milano per lavoro, dicono, no, c'ho ancora un'ora di treno o 100 euro di taxi. Pensai io che vi ho a Predazzo. Beh, anche io a Ferrara, quando dobbiamo andare a Ferrara. Ho capito. O prendiamo il taxi e spendiamo tanto, oppure prendiamo... Però vai a Predazzo, prendi tre treni... Ah sì, lì sono altre sei ore di viaggio. Poi dopo altre cose che ci potrebbero venire in mente, secondo me, comode, beh, secondo me i servizi. Cioè, qua funziona tutto. Al di là che ora abbiamo avuto un po' di sfiga con internet, ci abbiamo messo un po', ma non sappiamo se è colpa dell'operatore o del proprietario di casa. Comunque internet va da paura, stiamo parlando di un gigabyte al secondo, 600 megabyte, sono attendibili le cifre che ti dicono. Tutti i servizi funzionano bene, hanno... Ah, è la città d'Europa quasi con... No, forse già con più ciclabile a livello di chilometraggio o non densità d'Europa. Fino a qualche anno fa stavano a 300 km, in due anni vogliono raddoppiare e arrivare a 600 km di ciclabile dentro la città. Io e Danny non prendiamo taxi quasi mai, abbiamo gli skateboard e con lo skateboard o il monopattino elettrico facciamo tutta la città. Roba che siamo andati da una parte all'altra, a direzione opposta della città, semplicemente con il monopattino e lo skateboard. Quando ti devi muovere, andare dal medico, fare una visita o altre cose, wow, è sconvolgente. E poi altre cose, beh, sempre riguarda i servizi, i servizi funzionano. Oddio, non è che li abbia testati così tanto, però tu avevi la bicicletta, cioè avevi la tessera per prendere la bicicletta che era comodissima. Ho preso i mezzi. Hai usato i mezzi, funzionano, ah, sanitari, sì. Noi non abbiamo la residenza qui, quindi non possiamo magari fare come se fossimo in Italia, però basta andare in una clinica privata, è vero che magari è più cara, però, insomma, è una clinica come si deve. Poi un'altra cosa, secondo me, di cui non abbiamo parlato, di cui pochi parlano, è la quantità di esperienze e cose che ci sono da fare. Non solo di tipo sportivo, ma in generale, secondo me, Barcellona viene confinata nella testa del turista a quei quattro quartieri da visitare quelle quattro attrazioni. Però per uno che vive qua è un ecosistema molto più grande, cioè, ad esempio, ci sono le montagne, le colline dietro Barcellona ed è magnifico. Ci sono dei posti dove vai a mangiare sui colli e ti vedi tutta la città dall'altro. Colserolo è molto bello, l'avete vista nelle mie storie. Su Instagram, oppure un'altra zona molto bella, è tutta la costa brava. Qua abbiamo noleggiato l'auto, anzi, una volta siamo venuti anche con la nostra auto. C'è 20 minuti di macchina e sei in dei posti da paura. Un'ora di macchina e sei in dei posti straordinari. In tre ore ti vedi comunque tutta la costa brava e ci sono dei posti magnifici. Quindi te la godi tanto. Altre cose che si possono fare è andare in montagna. Abbiamo preso un'auto e in un'ora e mezza siamo andati alla Maseia e lì si scia. E in tre ore sei a Andorra. E Andorra comunque è un posto famoso per sciare. Quindi insomma secondo me ci sono ottime opportunità ed è veramente veramente interessante come ecosistema da vivere. E basta direi, non c'è altro. Quindi ragazzi grazie di essere stati con noi. Se volete trasferire via Barcellona e venite a vivere qua scriveteci. E ci vediamo a Barcellona. Un abbraccio. Ciao. Grazie. Ciao.